e allora io mi avvicino qua perché vi presento colui che vi farà divertire ciao allora innanzitutto vorrei ringraziare la Catanzaro Spettacoli che mi ha dato questa grandiosa opportunità di essere qui con voi io sono Victor DJ, alias Vittorio Miceli vi ringrazio per essere qui presenti abbastanza numerosi e vorrei ringraziare il simbolo della Catanzaro Spettacoli che è Tonino Guerra con Anna Guerra che è la figlia non so se avete mai avuto il piacere di ascoltare la sua voce però sicuramente ci saranno altre occasioni questa sera vi voglio carichi carichi perché faremo musica di tutti i generi dalla 70-80 fino ai giorni nostri quindi un applauso innanzitutto lo farei alla Catanzaro Spettacoli e poi a tutto questo magnifico villaggio che siete veramente tanti questa sera Anna, tu quanto pensi più o meno? quanti saremo stasera? tanti, tanti, tantissimi non lo so, il numero non lo so sicuramente quelli che ci sono sono buoni e sono abbastati per farci divertire grazie, un applauso a voi grazie Ruggero volevo ricordarvi che stasera dobbiamo creare una sorta di pista da ballo grandiosa cioè, logicamente deve essere una discoteca all'aperto quindi immaginate una discoteca all'aperto io farò musica veramente per tutti i gusti quindi c'è da veramente, mi auguro da divertirsi e niente, la parola a voi e un applauso a tutti questi fantastici concorrenti che secondo me, a mio avviso meritano tutti 100 veramente, bravissimi un applauso grandissimo e allora, direi DJ Victor di farli un po' scaldare così poi siamo pronti per i premi e per il verdetto sì, sì e dai, parti, forza che noi siamo pronti allora io partirei con un pezzo che penso che conoscono tutti tutte le generazioni perché è un pezzo di Chubby Checker giusto? Lo conosci? io sì e chi è? eh, forse è un cioè meglio chi è? C'è il pezzo, come si chiama? io te lo dico? e forse sì, dai, prova come on everybody oh yeah ci siamo tutti insieme 1, 2, 3 DJ Victor per voi questa sera Villaggio Ruggero grazie alla Cadenza dello Spettacoli e a tutti voi vai sulle mani come on everybody alzatevi oh you're looking good I'm gonna sing my song it won't take long we're gonna do the twist and it goes like this come on let's twist again I'm back with my soul yeah let's twist again my wife we did not see you papi we've been born and I'm back with my soul anche lì sotto si può guardare bravo il signore lì forte eh bravissimo yes my time is here eeeh run and run and up and down we're gonna go again oh baby make me know you love me so you love me so let's twist again I'm back with my shimmer come on let's twist again I'm back with my shimmer I'm back with my shimmer I'm back with my shimmer Tutti frutti, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy I got a gal named Daisy, she almost drive me crazy, I got a gal named Daisy, she almost drive me crazy She knows how to love me, yes indeed, boy you don't know what you're doing to me E poi è bene Lucero, questo Mi ricordate questo pezzo, è nuovissimo Allora, vogliamo dare un aiutino al pubblico? Sì, secondo me ci arrivano I mondiali, le missi quest'anno abbiamo perso, però la canzone era bella E arriva Sì, è l'amore Sì, è l'amore Sì, è l'amore So the world where you from, so where you from So the world where you from Grazie a tutti. Allora, volevo ricordarvi che le fotografie di questo evento della serata sarà sulla pagina Facebook Catanzaro Spettacoli, quindi cliccate più mi piace possibile e troverete anche tutte le foto degli eventi, anche futuri, sempre della Catanzaro Spettacoli, di Tonino Guerra e Company. E adesso ci spostiamo in Francia con un pezzo, sempre nell'estate del 2014. Qualcuno conosce Stromè? Papa Ute mi dice qualcosa? Spero che dici ok. Allora, DJ Victor mi regala Stromè. Ritmo O è il Papa? Dimmo, o è il Papa? Ma linda, mi alma te llama, viene in mi cama, quiero amarte, tu sei nina, dame tus besos, mirame a los ojos, curame tu voz. E con questo pezzo chiudiamo la serata. Grazie ancora a tutti voi, grazie alla Catanzaro Spettacoli, grazie a sempre per Ruggero, mi dico, insieme per Ruggero. E vi auguro a tutti una buonanotte e alla prossima. Grazie! Vittorio Bigelli alias Victor DJ, grazie.